Ciao Internet! Salvini nelle ultime ore si è recato al CARA di Mineo, il centro di accoglienza per immigrati, uno dei più grandi europei. Ovviamente si è recato al CARA per fare Salvini e quindi per postare questo, più una serie di altre dichiarazioni. Lo stesso Salvini, quello che diceva che la destinazione migliore per i centri di accoglienza era questa, e lascio ancora una volta le parole a lui. Ma in realtà non sono qui per raccontarvi di cosa ne dice la rete, quanto per raccontarvi quando la rete fa la rete. E quando prende un attacco frontale come questo, fatto per, ovviamente, motivi politici, e lo trasforma in qualcos'altro, lo sublima, mi verrebbe da dire, in ironia. Ironia fatta come? Beh, guardate voi, Yeah, già Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un'ultima cosa, in realtà, è questa recensione su TripAdvisor che proprio Salvini lascia nella mente di chi l'ha realizzata su TripAdvisor. E come sempre, grazie mille per avermi ascoltato e vi state parate.